Questa droga, si chiama Caras, è un tipo di hashish prodotto dall'estrazione della resina di cannabis. Sul mercato ogni ovulo vale circa 100 euro. La squadra mobile di Arezzo ne ha sequestrati 60. Per questo in manette è finito un 22enne FI le sue iniziali, pregiudicato e di origini marocchine, ambulante, in regola con le norme di soggiorno. Ormai da vari anni è residente nel comune di Monte San Savino. Il giovane straniero aveva creato un piccolo deposito di droga nelle campagne di Pieve a Maiano, occultato fra la vegetazione, teneva lo stupefacente. Gli operatori della sezione antidroga, dopo continui appostamenti, sono riusciti ad individuare l'imbosco e sequestrare i 60 ovuli. Ciascuno aveva 10 grammi e 82 di sostanza, per un totale di 650 grammi. Ognuno recante la lettera H di hashish, appunto, proprio per rendere più agevole il trasporto da parte del corriere. Si tratterebbe della prima volta che questo tipo di sostanza viene sequestrata nel territorio aretino.